Buonasera ragazzi, dal vostro Gianni di Panto Juventino mancano 7 minuti più recupero al Stadion tra adesso Juve 0, Milan 0 il secondo tempo un po' di più tempo, i primi 20 minuti la Juventus ha fatto molto meglio del Milan il secondo tempo decisamente un po' noioso, la intende le squadre, il Milan giustamente è in 10 e raccontiamo subito il primo tempo, il primo tempo è il calcio di vigore per la Juventus quando ti conti se non sbaglio, ero Ronaldo, lo ha battuto sul palo, subito si vede dopo l'espulsione giustissima tra il Milan e la Juventus, l'espulsione del Milan e poi da lì in poi arrivato al 25 minuti ha giocato molto meno del Milan e poi andiamo al secondo tempo che ne stiamo facendo tutta partita, non ci possiamo, ok giustamente da un pari di mesi che sono fermi non possiamo sfezzarci tanto, ci sono visti per adesso i primi 3 cambi per la Juve sono entrati Chiedira, Chiedira, Rabiot e Bernardeschi, è uscito con Matuiti e mi ricordo Matuiti, Piani, c'è un altro non mi ricordo che è uscito comunque era per me come ripeto è uscito, sono uscito un bel paio di calciatori ora sta entrando quadrato e esce quadrato, è entrato quadrato e esce Danilo, esce quadrato e entra Danilo ora ci vuole in avanti, non so il rigore c'è, non lo so se c'era comunque, l'espulsione di Rebic c'era, perché ha fatto veramente un bruttissimo fallo comunque mancano quattro minuti, ricordiamo che non ci saranno i supplementari se finirebbe 1 e 1 ora sta entrando un altro giovane per il Milan Chiedira, Juve ha fatto quattro sostituzioni non sta facendo nulla, 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 nulla Rabiot e Rabiot e Rabiot Rabiot e Rabiot Bernadeschi Rabiot Bernadeschi, quadrato adesso non mi ricordo l'altro giovane, eh che tirava la stanno entrando per il Milan, l'Assalt e Salamec prima era entrato Leao ci è quadrato, mamma mia attenzione la mia domanda che ha sbagliato non vuole che lo so io che fa dai non l'Assalt è entrato, l'Assalt è entrato, l'Assalt è entrato per il Milan l'Assalt per Calabria andiamo se sarà così andiamo un'altra sostituzione per il Milan fuori Conte e entra Salamec non so, se l'ho detto benissimo la pronuncia si, Conte e Salamec invece Conte e entra Salamec ora adesso c'è quadrato e quadrato, vai 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 quadrato, che tira? riconosco meglio di questi cronisti Bonucci Bonucci 2 minuti questa fa bene o è una sigaretta, non pensate eh una sigaretta fatta eh col tabacco però la Juve mi sta deludendo cazzo sta giocando in 10 contro il Milan contro il Milan diciamo giovani contro il Milan dei panchinari perché manca Ibrahimo mancano un paio di calciatori perciò io dico una Juve inguardabile sì sono stanchi, lo so lo so, lo so non sono preparato ma neanche il Milan è preparato anche io che il Milan però eh non lo stiamo facendo diciamo in entrambi i casi sia il Milan che il Juve siamo tutte e due squadre che non giocano da molti giorni cioè non ci possiamo buttare lì perché vabbè ha 40 giorni che non giochiamo ma pure loro ha 40 giorni che non giocano eppure ci stanno facendo non soffrire però non stiamo facendo un cazzo di gol non stiamo facendo un cazzo di gol ci stanno in 10 questi ho paura signor ho paura nei minuti di finale ho sempre paura ho sempre paura sai non si sa mai un tiro eeeh ci mandano a casa Ronaldo Ronaldo vai Ronaldo il cross vuoi ben a stare di testa donna rubia sta a fottiere donna rubia con il corpo di tacco il cross insomma con il corpo di tacco ronaldo ronaldo perché perché fai queste cose ronaldo 4-1-3-1 a posto siamo 4 minuti di recupero che ormai non ha più niente da perdere 4 minuti di recupero che ormai non ha più niente da perdere sono iniziati adesso i 4 minuti di recupero i 4 minuti di recupero no seeeh ho fatto poter commesso fallo meno male è fallo e non l'ha presa la palla sarà il Mect meno male meno male ripeto le sostituzioni c'erano 5-4 sostituzioni per la Juve e mi sembra anche 4 per il Milan ora ormai arrivando a questo punto facciamo entrare il disciglio dobbiamo fare anche dobbiamo cercare di vincere ormai se potrà Ronaldo però se quello lo segnava Ronaldo eravamo più tranquillo questi 3 minuti mi fanno sudare mi stanno facendo venire veramente il sudore molto molto freddo il sudore molto molto freddo anche ho paura sai questi minuti finale sono quelli che ti fanno tremare il culo Orlando scusate che dirà che dirà comunque Pjanic è molto molto lento io lo venderei a Pjanic con Bernadeschi entrato da poco diciamo non ha fatto nulla Rabiot è il solito di quello che abbiamo lasciato un paio di mesi fa possiamo dare il miglior giocatore della Juve non lo so non so non so a me mi è piaciuto molto l'Alexandro ma l'Iba l'ha fatto qualcosina Ronaldo è stato spento Buffon non si è visto il calcio di punizione Juve Boruccio ha fatto qualcosina ma diciamo entrambe le squadre non è che hanno fatto non so che ha hanno fatto questo grande calcio vabbè sono stanchi però ripeto in 10 in Milan Ronaldo Di Bala loro dei ragazzi si doveva fare almeno un gol non mancano due minuti stanno diventi molto lunghi triplicato di Bala vedi questo pallone in aria dove c'è che tira ancora di Bala guarda di Bala quadrato quadrava ai 16 metri non tira perché non hai tirato quadrava che cazzo c'era Ronaldo libero sulla destra e guarda quella posizione ci può stare perché lui è un drible secco anche il tiro anche se non so non so non so poteva passarla a Ronaldo non lo so non lo so non lo so non piace non posso dire niente di questa partita non posso dire niente che con quell'espulsione che c'è stata prima per il Milan che c'era che c'era se alcuni dicono che non c'era ma c'era l'espulsione c'era guardatevela bene che c'era l'espulsione da parte vostra c'era lo stava ammazzando a Danilo c'era ma il rigore pure c'era perché il rigore con la mano l'ha toccato a Conti è stato lui mancano pochi secondi la notte a terra ah 50 secondi andiamo in finale 50 secondi miocchia miocchia al finale si giocherà diciamo il 17 20 secondi 44 partite consecutive con gol allo stadion ultima partita senza gol quella contro Napoli di due anni fa la sconfitta 1-0 con gol di Coulibaly lo segno sempre in 44 partite si sta interrompendo il record di 44 partite consecutive sempre segnate solo contro il Napoli contro il Napoli quando ha segnato Coulibaly non aveva segnato la Juve era segnato sempre da quel giorno oggi è finita eh comunque dai ormai è finita è finito anche il quarto minuto di recupero di bala e vediamo di fallo il gol almeno facciamo 45 partite consecutive sempre segnando lo stadion facciamolo questo gol buono buono non fischhiare ora non fischhiare ora buono non c'era che ha imparato il Donnarumma non poteva riparare Donnarumma questa palla infatti Ormai ci siamo qualificati ci siamo qualificati ci siamo qualificati ci siamo a meno che non succeda un miracolo Tipo il film di Franco Franchi Che il potere batte la palla La perde con le mani Se non non si può tenere E segnano in pochissimi secondi La Juve va in finale La Juve va in finale La sua 17 No È finita La Juve è in finale 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 Una brutta partita Ma la Juve è in finale La Juve è in finale Meno male La Juve è in finale La Juve è in finale domani si saprà chi affronteremo fra l'Inter e il Napoli vediamo chi affronteremo il 17 fra l'Inter e il Napoli in finale non si può commentare possiamo dire che un ricordo sbagliato dalla Juve, l'espulsione del Milan poi qualche tiri parati da Donnarumma, Buffon non si è visto si poteva fare molto molto di meglio e spero che nella finale faremo molto di meglio perché ora a Sarri deve alzare il primo dofrego buona volta a tutti, Juve finale